oh no oh no ma vuoi dire che è il mio cunno d'ora vero? un! un! io lo so che l'hai nascosto dov'è? ah si c'è a casa tesoro io mi sono svegliata adesso dov'è? 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 io lo so che l'hai nascosto farlo nascosto che cazzo ci sta facendo carimsa? mi chiamo di2226 e vengo dal pianeta Nibiru per salvare l'umanità ma che cazzo di risposta è? e tu che cazzo di domande fai? ora rimelo tu chi ci fai a chiesto Rims Ammatio? Rims Ammatio? niente ma se io vi risupro ho letto ciao 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 ciao